Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Dai, suona maledetto, non telefona, non capisco. Vedrai, chiamerà. Lo pensi veramente? Ma certo, perché non dovrebbe? Ma certo, perché non dovrebbe? Bah, forse telefonerà, non lo so. Non lo so, l'ultima volta che ci ho parlato sembrava un po' strano, ci sentiamo più tordi, bimba. Non credo che chiamerà. Sta tranquilla, chiamerà. Lo pensi veramente? Ma certo, perché non dovrebbe. Sì, hai ragione, mi chiamerà. Ma se lui non mi chiama, io devo chiamarlo. Chiamerà lui, vedrai. Ah, tesoro, è proprio fantastico come riesce a rattoppare la vita degli altri. Beh, il giorno che dovesse servire anche a te, fammelo sapere. Per quanto mi riguarda, io non chiamo mai perché non ne ho bisogno. Ma se vuoi sapere quello che penso... Perché adesso pensi. Ciao ragazze. Ciao, Ricci. Vi vedo moscete, un po' di fotting vi farebbe bene? Ma come di permerdi? C'è il tuo bacino? Quanto è che non vede una donna, quello? Guarda un po'.